Amici di Milan.soccer, eccoci buona domenica a tutti. Peccato che sia una domenica senza Milan, ma è la vigilia, la vigilia di due appuntamenti, uno più importante e l'altro purtroppo moderatamente importante, ne parleremo approfonditamente. Vi ricordo che domani ci sarà Maratona Milan, inizieremo dalle 17.50 e finiremo con il dopoderby. Prima di cominciare però vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di mettere un bel like, un pollicione a questo video e di condividerlo con gli amici se vi fa piacere stare con noi. A chi non fa piacere, bye bye. Allora, perché dico questo? Perché, diciamo, ieri è stata una giornata molto convulsa. Beh, adesso lo possiamo dire, Pioli non sarà più l'allenatore del Milan, poi nella vita tutto è possibile, per cui non abbiamo la sfera di cristallo, ma abbiamo tutte le informazioni, così come ce l'hanno altri, così come ce l'hanno i media, così come ce l'hanno le televisioni, non è che loro hanno un radar o le micro spie all'interno della società. In particolare mi riferisco al fatto che ieri mattina la Gazzetta dello Sport ha fatto una raffica di nomi così, tanto per creare confusione e ce l'ha fatta, ho visto i commenti, commenti così senza nessun tipo di rispetto per quella che è l'informazione nel vero senso della parola. Io però faccio riferimento anche ad altre testate giornalistiche, su tutti la Repubblica, che comunque nel pomeriggio, sempre di ieri, a firma di Enrico Curro, che è un giornalista serio, importante, informato, dice, Milan, Piole al capolinea, Conte la prima scelta per ripartire, e poi Lopetegui, non so come si pronuncia, e Fonseca le alternative per la successione del tecnico, la primavera di Abate, in finale di Yacht League, questo lo diceva nel pomeriggio, quindi la Repubblica e la Gazzetta non dicono affatto la stessa cosa, noi sappiamo, così come sanno altri, che la volontà del Milan è Conte, ma che le condizioni che detta Conte sono condizioni per vincere, probabilmente per chi preferisce altri, ci sono chiaramente altre possibilità, ma ricordiamocelo, che la Gazzetta dello Sport è riuscita nell'intento di mettere zizzania tra di noi, proprio alla vigilia del derby, cosa dire di più? Ho sempre detto, quando dite non la leggere, non la leggere, ma io la leggo e la critico, altri invece la leggono e la venerano, io credo piuttosto invece che la necessità di vendere copie vada al di sopra di ogni situazione, e me la chiudo qui, la chiudiamo qui, non c'è nessun problema, comunque diciamo che c'è una buona notizia, quindi vedete anche le buone notizie vanno date, però ho notato su altri canali che non danno sempre buone notizie, forse le persone preferiscono le cattive notizie, come i ragazzi o le ragazze che preferiscono i cattivi ragazzi, però in questo caso diciamo che la buona notizia c'è, si chiama ranking UEFA e il Milan dopo dieci anni, nonostante tutto, nonostante l'eliminazione dall'Europa League, sorpassa la Juventus nel ranking UEFA, dopo dieci anni, il sorpasso arriva comunque, dunque arriva dopo l'eliminazione, quindi è ufficiale, e come rivelato, cito anche in questo caso la fonte da calcio e finanza, il cammino in Europa del Milan consente al club di superare ufficialmente la Juventus a partire dal prossimo anno, questo sorpasso arriva complice l'assenza dalle coppe europee dei bianconeri e arriva dopo dieci anni in cui giustamente la Juventus per varie ragioni, insomma è stata sopra al Milan. Bene, queste sono informazioni della domenica mattina, quindi da una parte la Repubblica che continua a dirci conte, a differenza della Gazzetta, quindi sulla credibilità ognuno faccia le proprie scelte, di certo ciò che conterà sarà la voglia di Gerry Cardinale di vincere, perché se fosse Lopetegui io personalmente credo che si stia prendendo un granchio, anche perché nell'ultima sua esperienza al Wolverhampton lui alla fine è andato via, perché i giocatori che ha richiesto, e guardate che aveva richiesto giocatori fortemente, diciamo giocatori costosi, e nonostante il Wolverhampton fosse, sia una squadra della Premier League, quindi comunque di disponibilità ce ne sono, anche dove non ci sono i fondi, il fondo PIF, come nel Newcastle, insomma loro l'ultima della serie, della Premier League, ha il doppio della prima praticamente in termini di diritti televisivi della serie A, quindi i soldi ci sono e tanti, il Wolverhampton non l'ha contentato perché riteneva che le sue indicazioni fossero eccessivamente onerose, quindi se io devo rispondere a un richiamo preferisco rispondere al richiamo di Conte, ma poi alla fine ragazzi è una scelta, come dire, è anche un po' un gioco, come il fantacalcio, c'è chi preferisce questo, c'è chi preferisce quest'altro, penso che dovremmo puntare tutti sul minimo comune denominatore, e cioè a noi tutti interessa vincere, quindi con chi non mi interessa, mi interessa quando, e cioè da subito, questo mi interessa. E poi l'altra questione è la questione del ranking UEFA, perché quest'anno si arriva addirittura a pensare che a certe condizioni saranno 10 le squadre italiane in Europa, potrebbero esserci 5, anzi 5 lo sono già sicuramente, forse una sesta in Champions League, il prossimo anno le condizioni cambiano e ritorna in ballo la questione del ranking UEFA, quindi noi intanto ci portiamo a casa questa posizione importante, che è una posizione di rilievo ed è una posizione che ci vede superare la Juventus. Poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ricominceremo tutta la tiritera sulla campagna acquisti, però adesso concentriamoci su due appuntamenti di lunedì, ripeto, Maratona Milan dalle 17.50, con prima la finale della Yacht League intorno alle 18, la finale di Champions League dei giovani, il Milan grazie ad Abate ci è arrivato, non vedo... Io anche vedo Abate come a sto punto, se devi prendere Fonseca prendi Abate, diciamoci la verità, e poi successivamente il derby. Va bene, buongiorno ancora, buona domenica, ci vediamo per l'ora di pranzo e ciao!